Cosa accade qui a Casa Energia? È il luogo del confronto, è il luogo della collaborazione, è il luogo della maturazione della coscienza della nostra realtà regionale per cercare di fare un passo avanti, alzare l'asticella della responsabilità e cercare di capire che la nostra comunità regionale ha bisogno di più energia perché questa nostra società, il nostro sistema imprenditoriale cammina sull'energia, ha bisogno di energia e quindi abbiamo bisogno anche di capire che dobbiamo trasformare culturalmente il nostro modo di agire, il nostro modo di costruire, il nostro modo di muoverci per cercare di assumere il concetto di green economy come un elemento di trasformazione della nostra società e per fare questo abbiamo bisogno di confronto e questo è il luogo del confronto. Per due mesi ci misureremo per cercare di trovare le idee più innovative, quelle idee che devono poi trasformarsi in progetti, in prodotti, in brevetti che debbono essere stimolo alle imprese per maturare le condizioni di una competitività più sostenibile con un marchio ambientale che consenta di portare nel mondo i prodotti di qualità del nostro sistema industriale regionale e quindi investire per risparmiare, questo potrebbe essere il messaggio. Grazie